7 gennaio 1778 Il mio mondo si è capovolto, mi gira la testa e sono sconvolta. Che meravigliosa confusione! Non so che cosa scrivere qui, perché non ci sono parole per raccontare ciò che mi sta succedendo. È come se fossi... rinata? Come se avessi oltrepassato una soglia e fossi entrata in una terra sconosciuta, quella del cuore. L'abate Vermon mi ha letto alcuni testi sulle visioni beatifiche quando un santo intravede il volto di Dio e gli si spalanca davanti un mondo nuovo. Anch'io ho avuto la mia visione beatifica. Ho intravisto per la prima volta il volto dell'amore. Ieri Axel è venuto a trovarmi e ho detto a Lulu di introdurlo subito nelle mie stanze private. Come ha varcato la soglia, lui ha spalancato le braccia e io gli sono corsa incontro, permettendogli di abbracciarmi come se non volesse lasciarmi più. Come può succedere una cosa del genere? Gli ho detto pensierosa quando alla fine mi ha lasciata andare e siamo rimasti mano nella mano a guardarci negli occhi. Come posso amarvi così dal momento che non vi conosco neppure? Avevo parlato senza riflettere, mi sono sorpresa dell'audacia delle mie parole. Eppure erano vere. Perché non pronunciarle? Mio piccolo angelo, forse non sono la persona cui chiedere una spiegazione. La sola cosa che so è che sono rapito da voi. Allora lui mi ha baciata, a lungo e con ardore, e per un'ora mi sono persa in un dolce incanto di felicità e di piacere. Era un amante esperto e tenero e mi ha ripetuto più volte quanto fossi bella, chiamandomi il suo piccolo angelo. Ho fatto in modo che potessimo rimanere soli tutto il pomeriggio e consumare insieme una cena a base di patè di fegato d'oca e fragole con la panna. Axel mi ha raccontato tutto della sua vita, chinandosi su di me ogni tanto per baciarmi mentre parlava. Adoro ascoltarlo. Parla benissimo il francese e il tedesco, ma con un buffo accento svedese. Ha una voce bassa e profonda e conversa lentamente. Tutti i suoi gesti sono calmi e pieni di grazia. Riesco a pensare solo ad Axel. Mi sento travolta dall'amore per lui, come se galleggiassi su un immenso mare d'amore, beandomi al caldo sole della passione. Dicono che l'amore fra due persone cresce lentamente nel tempo e diventa sempre più profondo e intenso con il passare degli anni. Sono tutte sciocchezze. Io so che il vero amore investe la vita di ciascuno con la furia di una tempesta improvvisa. È immediato e potente. Nient'altro conta. La ragione, il ritegno, il discernimento sono spazzati via con l'impeto di un fiume in piena che travolge gli argini e nulla, nessun pensiero, sentimento o sensazione, né la vita stessa può più tornare come prima.